ciao a tutti ragazzi riego strutturati in questo nuovo video oggi come abbiamo intravisto andiamo a vedere alcuni acquisti abbiamo fatto da primark giusto tre cosina niente di che partiamola questo questo qui è una borsa organizzatore quasi scritto la voglio utilizzare per la mia borsa perché ragazzi nella mia borsa butto tutto dentro e non si capisce mai niente e quindi pagata 3,50 aspetta adesso andiamo a vedere com'è fatta così dentro qui si può attaccare appunto nella borsa oppure volendo anche tenerla così dentro qui abbiamo un taschino eccolo qua e poi qua abbiamo vari scomparti vedete tutti i vari scompartimenti anche qui e anche qua su entrambilati abbiamo degli sviluppi esatto tutti scompartimenti con dentro appunto si che il nero non rende un po' scuro il video comunque sia abbiamo visto com'è com'è il suo interno poi una fascia per capelli classica pagata 2 euro che si mette poi così poi con il fiocco in evidenza vedete tipo così si può usare anche una specie di bandana sia come il fiocco che come fazzoletto diciamo da mettere al collo 2 euro e per ultimo si insomma se volete strozzarvi questo è l'ideale perché fa per voi e per ultimo questo 4,50 e l'acqua profumata della collezione di jasmine glitter body mist si può mettere anche per il corpo ci si può spruzzare anche come come cioè per il corpo aspetta perché è imballato qua fatta così facciamo vedere vedete tipo un olio per il corpo teoria cioè ragazzi mamma che buon profumo senti cioè vedete dovrebbe essere credo no non so se c'è scritto sulla confezione glitter cioè ragazzi allora il prodotto è fino a qua quindi ce n'è veramente tanto quante c'è niente anche se le donne diciamo che voi donne ovviamente fate in fretta a finire queste cose a differenza cioè ragazzi vorrei dire è marchiato disney proprio originale glitter body perché non mi escono i glitter ah eccolo si vede dalla luce si vede qualcosa si vede dalla luce aspettate che proviamo ad accendere la luce allora ragazzi vedete che sbrilluccica ecco sì sì adesso si è intravisto ecco io amo cioè io questo penso che ogni volta che farò la doccia mi ci farò la doccia ecco ok quindi come ho detto due secondi fa fare in fretta a finire 4,50 euro se andate da primark ragazzi ve lo straconsiglio veramente perché è buonissimo c'è 150 ml di prodotto che se fosse per me lo finirei dopo 5 anni mamma che buono invece per voi donne dopo un mese già finito c'è rara c'è è troppo buono ha un profumo dolce per chi ha la possibilità di andare da primark poi ovviamente non tutti ce l'hanno si asciuga ve lo consigliamo si asciuga subito come acqua non rimane oleosa si asciuga cioè guarda se mi tocchi qua è asciutto vedete no vabbè adoro adoro consigliato straconsigliato e niente basta ragazzi abbiamo preso solo questo non facciamo mai haul straordinaria come altre youtuber allora noi siamo andati principalmente perché cercavo la collezione di barbie so che è uscita settimana scorsa ma evidentemente non ancora in italia no qualche cosa abbiamo visto sì però era probabilmente la collezione dell'anno scorso è perché praticamente quindi detto ciò probabilmente in qualche altra parte del mondo quindi in america probabilmente sono uscite queste collezioni sia quelle di barbie sia probabilmente quella dei pokemon che quindi arriveranno probabilmente in italia questa qui è di aladin la trovate c'è qualche cosa qualche rimanente molto probabilmente è una collezione uscita poco tempo fa io purtroppo settimana scorsa non c'ero quindi non siamo potuti andare a dare un occhio manco Marco c'era quindi siamo potuti andare però dai tutto sommato allora di queste c'era un angolino appunto c'erano tutte queste diciamo acque profumate poi c'era la palette di ombretti che costava 10 euro ce n'era solo una l'ultimo pezzo è rimasto però io non l'ho presa ragazzi perché sono piene di palette di trucchi e poi c'era un altro profumo sempre di aladin e poi cosa c'era? la spazzola esatto io non l'ho presa perché la spazzola ho già quella di alice e mi basta e boh questo è quanto ragazzi niente di più e niente di meno qualche piccola novità con il post di Yolanda poster poster che poi non è un poster è la cartone che c'era dietro la maglietta io invece che buttarlo l'ho messo lì esatto con il suo sito e al fianco di Gorgeous bene noi concludiamo quel video speriamo che questi prodotti vi siano piaciuti soprattutto il profumo questo qua ve lo consigliamo che poi è un glitter body anche l'organizer comunque è utile quindi per per donne possono essere acquisti utili per donne un po' più grandicelle non proprio per ragazzi oddio ragazzi ne hanno anche 15-14 anni comunque le borse le utilizzate quindi bene ragazzi cioè ragazzi io profumo bene sono contento un like a questo video ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguiteci anche su Instagram a inizio scusate a inizio sigla trovate appunto nella intro già il nome della nostra pagina quindi seguiteci ci vediamo al prossimo video ciao ciao bye bye ciao